E questa è la dichiarazione rilasciata da Domenico Crea prima dell'arresto esattamente nel mese di settembre del 2007 alle telecamere di Anno Zero. Qua si sta creando una confusione, cioè che stanno mischiando le carte, stanno facendo non so cosa, io sono un medico, un direttore sanitario, non è che io sono un dè elinguente. Intanto l'inchiesta onorata sanità va avanti, ci sono altri sei rinvii a giudizio, saranno processati con rito ordinario mentre sono state presciolte delle accuse a 12 persone. L'inchiesta come ricordavamo ruota attorno a Villania, a giudizio anche la moglie e la di Mimmo Crea, che saranno in aula il 10 giugno unitamente all'ex assessore regionale della sanità Gianfranco Luzzo, al sindaco di merito Porto Salvo Giuseppe Aria, a Peppino Biamonte, a Emilio Caridi, a Domenico Antonio Pangallo, Salvatore Asaro, Francesco Cassano, Pietro Morabito e Roberto Mittiga. I sei rinviati a giudizio sfileranno in aula il prossimo 10 giugno, giorno in cui riprenderà il processo a Mimmo ed Antonio Crea accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. secondo l'accusa il politico di merito Porto Salvo avrebbe fatto pressione nei palazzi della regione, dell'Asri e anche del comune affinché le autorizzazioni e la pratica della sua clinica non incontrasse ostacoli e fosse licenziata nel più breve tempo possibile ed è proprio per questo motivo che è stato rinviato al giudizio anche il sindaco di merito di Porto Salvo Giuseppe Aria colpevole secondo l'accusa di aver concesso, di aver dato la concessione edilizia ai relativi certificati.